Sono messe in questa confezione che non la sto ad aprire, è trasparente, si può vedere E dentro c'ha una caldinella con il becco, vedi signora sono veramente carine carine E a casa perché è veramente bello, c'ha l'erbetta verde come può vedere Fiori di pesco, sono fantastici, guardi che belli signora E rifiusi ASMR Salve, 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 buongiorno e benvenuta Cosa posso essere utile? Sì, sì, infatti manca pochissimo a Pasqua Lo so, lo so Però non mi è rimasto molto perché sai, adesso sono gli ultimi giorni e le cose vanno a ruba No, no, allora noi qua teniamo solo articoli per la casa Decori così, pasquali, però tipo cibo, uova di Pasqua, no Questo non lo teniamo Magari teniamo qualcosa per i clienti da tale se acquistano qualcosa ma cibo noi non lo teniamo Ok, allora mi dica signora voleva un attimo vedere cosa c'è qualcosa che le può interessare Eh beh, sì, come vede qua abbiamo un sacco di decorazioni, di cose, ci sono arrivate delle cose nuove anche quest'ultima settimana qua E quindi, ok, va bene, voleva qualche consiglio Sì, noi abbiamo anche accessori tipo piatti, come vedi qua Che ho qua sul tavolo qua dietro di me abbiamo anche dei piatti per decorare a Pasqua Così, appunto, molto scenografici Con i pulcini, con le uova, molto carini Ma lei cosa cercava in particolare? Ok, quindi non cercava accessori tipo bicchieri, cosa così E quindi su cos'è che si voleva orientare? Va bene, d'accordo Ma, ma certo signora Ma non si preoccupi, allora io siamo qua apposta per aiutarla E quindi se lei vuole dare un'occhiata lo può dare Se no può chiedere consiglio a noi, ecco E noi la serviamo e la facciamo, insomma L'aiutiamo, di sicuro Ma di preciso cosa cercava lei? Degli accessori Da decoro, insomma Ok, sì sì Allora, le dico subito C'è arrivato qualcosa questa settimana Però è già stato a ruba qua sotto Quindi Un mio consiglio che le do Le consiglio Di affrettarsi un attimo Perché Può succedere Che se viene domani Magari Non trova la roba Ecco E quindi Io le consiglio di Affrettarsi Perché così almeno Così almeno Può Acquistare Le cose che le piacciono Perché se viene all'ultimo minuto Sa che Dopo Le cose finiscono Le cose Non ci sono più Ah sì Le piacciono le mie unghie Sì Le ho accorciate Perché Con il lavoro qua Sai Le ho accorciate un po' Però Le ho fatte in stile pasquale Sì 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 Le piacciono No Le faccio io Sì 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 Grazie Comunque le dicevo Che è arrivato Il cane Questa settimana E Le dico che Sono già andate a ruba Un sacco di cose E quindi Io magari Se mi dà la possibilità Le posso mostrare Qualcosa Di interessante Che magari Le può piacere Ecco Ok Allora Se vuole seguirmi Le faccio vedere Tutto quanto Quello che ho Ok No no Allora Questa cosa Sì Sono cose Molto Particolari Molto Molto Fini Molto Realizzate Con Materiali Naturali E Della nostra azienda E quindi Sì No Non sono In principi Noi non abbiamo Cosa in vetro Perché Magari con i bambini Così possono Rompersi Abbiamo più Cosa Tipo Plastica Così Però I materiali Con cui sono fatte Sono naturali Quindi Non si deve preoccupare Ok Allora Mi segua Mi segua Venga Venga Signora Venga Mi segua Mi segua Pure Eccoci qua Allora Come puoi vedere Qua abbiamo Tutto L'allestimento Proprio Degli accessori Pasquali Allora Io le volevo Proporre Come prima Cosa Vabbè Le uova Allora Le uova Sono Eccole qua Sono messe In questa confezione In questa confezione Che non la sto ad aprire Perché Se no Mi escono tutte Ecco Comunque Ecco Io volevo Farle vedere Questo qua Ci sono Uova colorate Azzurde Dosa Gialle Arancio Bianche E c'è anche Il suo comodo cestino Quindi È molto È molto Comodo Questo Sì Allora Le uova Sappiamo Che sono Della tradizione Pasquale Sono Fatti In Polistirolo Quindi Sono Molto Leggere Anche Senta Vedi Sono Molto Leggere Ma Leggevoli Quindi Non ha Nessun Problema Le dico Sì Queste qua Si sono Arrivate Ieri Quindi Prezzo Un po' Altino E E Fai Sulle 6 Euro Qua Va Bene Allora Come Uova Io C'ho Solo Queste Le avevamo Anche No Non ce le ho Più Mi Scusi Le avevamo Anche Un altro Cestino Così Con le Uova Del colore Classico O Rosa Scuro O Bianche Con i Puntini Però Li abbiamo Finite Abbiamo Solo Queste E Quindi Le posso Dare Queste Qua Allora Ok Allora Le metto In parte Va bene Allora Le dico A dei bambini A casa Si ho capito Le ha Dei bambini Però Non si deve Preoccupare Perché Praticamente E Cadono Per terra Non si rompono Non sono Di vetro Quindi Sono Sono Impagibili Ecco E poi Sono Leggerissime Ecco Metti Che se ha Qualche Animaletto Qualche Gatto A casa È facile Che con La Zavetta Vada Un po' A giocare Con le Uova Però Non si preoccupi Allora Allora Facciamo così Queste qua Le metto In parte Va bene Ok 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 Allora Come altro Uovo Diciamo Ho una cosa Un po' Originale Un po' Strana Che la può Magari Appendere O sul Bordone Per andare Sulla porta Per andare In cucina Oppure Tra la cucina In salotto Appende Questo uovo Che è Questo qua Guardi Signora Questo uovo Qua Lo può È trasparente Si può vedere E dentro C'ha Una gallinella Con le uova Piccoline Vede Quanto è carino Signora È fantastico Questo qua Questo qua Lo può appendere Oppure anche Sul mobiletto Del bagno Là Sopra Lo appende Ed è molto Bello Anche da vedere Molto carino Trasparente Non è Incombrante È di Plastica Ecco È proprio Plastica E non è Incombrante Non è pesante Ed è Molto anche Come Visibilità Molto Trasparente Molto carino Perché Non è Tanto Appariscente Le cose Avvese E Le può sempre È molto Delizie Molto 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 carino Io Le consiglio Questo qua Perché Innanzitutto È una cosa nuova È una New Edri L'anno scorso Non c'era arrivato Questo tipo Di Cori E Le Divo Subito Che Mi è rimasto L'ultimo Questo Lo vedo a 5 A Se non Assegge 5 A Questo Mi è rimasto L'ultimo Perché I clienti Quando l'hanno Visto Sono rimasti Insomma Un po' Estasiati Perché È una Cosa Che Noi abbiamo Sempre un po' Di cosine Particolari E quindi Questo qua Secondo me Fa la sua figura Ecco Allora Va bene Allora Chi ne metto Da parte Uno Perfetto Sì sì Non si preoccupi Ok Allora Poi Le volevo Proporle Le galline Le gallinelle Quelle solite Allora Io c'ho Queste qua Guardi che belle Signora Queste Sono meravigliose Me le hanno Fatte con le piume Marroni E con le piume Arancio Guardi Quanto Sono belle Sono fantastiche Queste qua Signora Fa un figurone Sì No Veramente Poi Hanno La piuma Hanno la piuma Vede Hanno le piume Molto delicate Molto bene Sembrano reali Anche Il becco Vede Signora Sono veramente Carine Carine Sì appunto Me le hanno Fatte In due Colori Me le hanno Fatte Nel colore Marrone Con le piume Marrone E queste qua Con le piume Un po' Più sfarazzine Ecco Se io Se deve fare Due Cesti di decorazione Il consiglio Ho di prenderne Due Uguali Una Di un colore Una di un altro Ok Va bene Eh queste qua Mi vengono 5 euro All'una Anche questi Eh sì Signora Sì 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 No Allora Come puoi vedere Lei illustra Questa qua Questa qua È fatta A mano Vede È fatta Di un materiale Tipo Vellutino Se lei Può sentire Con la mano Così È fatta Di un Materiale Super Vellutino 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 Lo sente Molto bello E poi Ha queste Piumette Qua Sul colore Cipria E queste Piume Super Super Carine Queste qua Che sembrano Proprio le piume Vede Di una Gallina Vera Sono Veramente Fantastiche Fantastiche Però Anche Sende Il tessuto Signora Il tessuto È Fatto Naturalmente Naturale Velluto Naturale E poi Lo hanno Costruito A mano E colorato Vede E lo hanno Messo Così L'altra È sempre Fatta a mano Con Il nostro Vellutino E poi Tutte e due Hanno anche Questa Pinzetta Sotto Che vede Questa pinzetta Che le può Anche Attaccare A qualche Cosa Vede Sono anche Fornite Di pinzetta Quindi queste Costano 5 euro Perché C'hanno Anche Appunto La pinzetta Sotto Questa È un colore Un po' Più Sgarciante Mentre L'altra Questa Qua Era Più Naturale Questa Ha Un colore Su Arancio E giallo Sempre Fatta In questo Super Vellutino Con Colori Verde Arancio E giallo Piume Sempre Quasi Naturale Ma Un po' Più Chiare E questo Pelo Sull'aranciato Che va Molto Molto Wow Ecco Ha un effetto Super Super Wow Che Messo Sulle Uova Così Fa La sua Figura Ecco Si Fa Proprio Un Figurone Allora Gli do Gli le do Tutte e due Signora Ok Va Bene Allora Gli le metto Da parte Tutte e due È sicura? No Ecco Io Non voglio Costringerla A Prendere Niente Cioè Lei che si deve Deve sapere Cosa Prendere Va Bene Ha paura Che vada No Sì Qua Si Potrò Qua Ho gente Ogni giorno Quindi Soprattutto Gli ultimi giorni Qua Che ho allestito Tutto pasquale Vedi qua L'albero qua L'albero di pesco Guardi che bello È fantastico E Niente Questo qua È Fantastico Cioè Io Allora È sicura Perfetto Allora Gli le metto In parte Dopo Andiamo di là Che andiamo Al pagamento Bene Signora Io Le volevo Proporre Un'altra Cosina Che la può mettere Io la metto Sempre Di solito L'ho presa Anch'io E l'ho messa Sulla Sul bagno Ecco Nel lavandino Del bagno Perché Anche il bagno Che io Ho messo Questa Nel mobiletto Sopra Appesa E poi Sopra Al lavandino Dove Ci laviamo Le mani Ho messo Questo qua Che è Fantastico Signora Guardi Quanto È Bello Questo È Fantastico Guarda Composto Composto Vedi Già Tutto 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 Composto Sì Guardi L'erbetta È fantastica Queste uova Di plastichetta E questi Portassero A casa È davvero È davvero Un gioiellino Questo Eh Eh sì Eh Eh sì È proprio Un gioiellino No Guardi Io l'ho preso Appena è arrivato Questo è arrivato Un mese fa Però Eh sì Non tutte L'hanno preso Però Vedo che adesso Gli ultimi giorni Sta andando via Parecchio Ecco Ma lei Allora Mi scusi Non per farmi Cavoli suoi Ma Che tipo di Di Adietamento Ha Casa Bianco Colore Vintage Amazone Ho capito Allora Sì Ha la cucina Verde Ah Bella La cucina verde È fantastica E si stanno bene Eh E il bagno Com'è signora Sull'azzurrino Beh dai Un tocco Di radiciallo Poi qua C'è Richiama L'ovetto Azzurrino Secondo me È perfetto Allora E la camera Ce l'ha Nocciola Ho capito No Comunque Le dico Questo Azzurrino Qua Se lei Mi dice Che è al bagno Azzurrino Secondo me Si può Abbinare Perfettamente Allora Gliene Metto Da parte Va bene Sì Sì Dopo Magari Adesso Io glielo Metto Da parte Dopo Quando Andiamo In casa Le faccio Il conto E ci pensa Di nuovo Non si deve Preoccupare Signora No Non è Obbligata Non si deve Preoccupare Va bene Ok Allora Io le Volevo Proporre Un'ultima Cosa Che Come a Natale Che ci sono Le ghirlande Fuori Della porta Anche a Pasqua Ci dovrebbe Essere Qualcosa E allora Io Le volevo Proporle Appunto Una specie Di ghirlanda Ma non è Una ghirlanda È una cosa Più piccola Però Carina Allo stesso Tempo Perché Deve invitare I parenti Deve invitare Tutti quanti È bello Anche come Biglietto Da visita Ma la sua Figura È molto Carino E quindi Io Le volevo Fare vedere Appunto Questa Cosa Guardi Quanto È carino Questo Qua È Di Polistirolo Però Ricoperto Da Brillantini Sul Giallo E tu Lei lo Appende Alla porta Ed è Veramente Fantastico Da appendere Appunto Alla porta Signora Questo qua Farà Sicuramente Un figurone Perché È molto Originale Ci è arrivato Proprio ieri Sì 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 Ci è arrivato Ieri È Fantastico Sì sì Ne ho ancora Però Le consiglio Di Insomma Di affrettarsi Perché dopo Magari Non ne trova più Se magari Viene domani Non ne trova più Comunque Questo È Fantastico Signora Questo qua Farà Sono sicura Che farà Sicuramente Un figurone Guardi Con le sue uova Colorate La sua Chioccia Con i Brillantini È Fantastico La Erbetta I Fiocchetti È Veramente Fantastico È Fantastico Fantastico Sì Ok Allora L'ho convinta Lo sapevo Lo sapevo Che l'ho convinta Certo 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 Ma Assicuri Sì Ma Certo Ok Allora Le do Questo Allora Questo qua E lei Si ha il solito Chiodo Da appendere Il Davanti alla porta Non fa altro Che Appendere È già Completo Così Tutto Questo qua Mi viene 10 euro Sì 10 euro Eh sì È Un best seller Siccome Che non Avevamo Mai Fatto Queste cose Per appendere La porta Cioè Adesso Quest'anno Abbiamo fatto Anche Queste Spezie Di Chillante Da appendere Quindi È Ovvio Che il prezzo È un po' Mentato Ecco Va bene Ok Allora Le do Questo Perfetto Allora Sì Sì 10 euro Sì Ok Va bene Perfetto Allora Io volevo Proporle Un'altra Cosa Se non Mi dispiace Ha dei fiori A casa Dei fiori Di pesco Come noi Abbiamo qua Vedi Questi qua Ah che belli Che sono Questi qua Noi Li facciamo Anche In rametti Perché A Pasqua I fiori di pesco Sono un classico Sì Va bene Allora Venga con me Signora Che le faccio vedere Va bene Le faccio vedere Tutto quanto Sì sì Venga pure con me Ok Mi segua Eccoci qua Signora Ecco qua Questo È l'angolo E l'angolo Fioreria Allora Non le volevo Proporle Questi Bellissimi Fiori Di pesco Sono fantastici Guardi che belli Signora Allora Sì Un po' Di rapetti Li posso fare Allora Noi mi abbiamo Fatta Abbiamo un sacco Aspetta che mi cadono Tutti Allora Quanti Viene Una decina E vengono Due euro all'uno Sì Due euro all'uno Allora E dieci Eccoli qua Eccoli qua Ecco Allora Sì Sono dieci Perfetto Ok Allora Allora Sì Sono bellissime Perché li puo Li puo mettere Li puo mettere in tutta la casa Sono veramente belli questi Oggi Io Li puo mettere dappertutto Sì Sì Sono belli Allora Bene Allora Sì No Beh Questi qua Di solito Sono per esposizione Questi che vengono qua Ecco E Allora Allora Si accomodi Mi segua pure la casa Che adesso Le faccio il conto Va bene Ok È contenta Bene Dai Sono contenta Che ha trovato tutto Mi segua pure Mi segua Eccoci signora Eccoci 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 Allora Adesso le faccio il conto Ok Va bene Allora Abbiamo detto Le uova Sono 6 euro Più Questo qua Sono 5 euro Ok Poi abbiamo Le due gallinelle Che fa 10 5 all'una Poi avevamo detto Questo qua 7 euro Giusto? Mi corregga se sbaglio Perché ogni tanto Chi ho Faccio un po' di confusione Poi abbiamo detto Questa 10 Questa qua E i fiori Due per uno Sono per 20 E sono 58 euro Signora Si Sono 58 euro In tutto Allora Le do una borsa Si si No no Non si preoccupi La borsa Le do gratis Si si Non si deve preoccupare Per questo Allora Ecco qua Bella Cos'è vero della vita? Si si Ma lei Cosa fa a Pasqua Allora? Ah Ti fa Ok Bene bene Andate a mangiare fuori? Ah Si Ok 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 E Pasquetta Andate a fare un giro al mare Ah Che bello Ah Dove sono Sempre se c'è bel tempo E perché Speriamo che sia bello Ma come subito Ha piovuto La domenica delle palme Di sotto Si piove la domenica delle palme E in teoria Pasqua Dovrebbe essere Bello Ecco qua signora Allora Bene Adesso Le Le batto il conto Allora Paga con la carta Con il bar Con il contatto Con la carta Grande Allora Appoggi pure Perfettissimo Ok Perfetto Allora Adesso 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 Mi fa Allora Mi fa pure Mi digita il P Perfetto Ok Ok Signora Ok Ecco il suo scontrino Ok Signora Spero Spero Che lei Mi sia Rimasta Contenta Del suo Acquisto E io Le voglio Fare Tantissimi Auguri Di buona Pasqua A lei E famiglia Grazie 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 Mille Arrivederci 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 Si si Es Problemi Io sono sempre qua Arrivederci Di nuovo Buona Pasqua Arrivederci Buona Pasqua